Io dico coltiviamole queste energie in movimento, coltiviamo la competenza, coltiviamo la serietà, la passione politica, la cultura politica, la credibilità. Noi siamo radicalmente diversi dal nazionalismo populista, non solo perché contrapponiamo programmi a programmi, siamo radicalmente e orgogliosamente diversi perché abbiamo un'idea completamente diversa della politica, è un'idea assolutamente contraria all'ebbrezza del potere, quell'ebbrezza del potere che ha evocato qualche giorno fa la persona che custodisce le nostre istituzioni, la nostra Costituzione Repubblicana e l'equilibrio del nostro Paese e alla quale noi rinnoviamo la nostra fiducia. Il Presidente Sergio Mattarella. Attenzione all'ebbrezza del potere. In pochi mesi, cari amici, l'Italia è diventata, non credo di esagerare, un Paese più isolato, meno sicuro e con dei rischi significativi dal punto di vista finanziario, rischi che non correvamo da anni. Le decisioni sono state poche, ma purtroppo i danni sono stati numerosi. Io non ho mai visto un incrocio del genere, così poche decisioni e così tanti danni provocati in appena quattro mesi.